bene allora siamo al secondo incontro con insomma il building la create dei mondi abbiamo già visto l'altra volta vi vedo come funziona e andiamo quindi decisamente nel nostro blank world dove sto facendo delle costruzioni e dunque ci impiego un attimo come vi ho visto altra volta in questo mondo adesso vedete che siamo un pochino storti no siamo dritti ok siamo dritti quindi possiamo muoverci ecco la nostra idea è di fare il primo script magari mettiamolo ok cerchiamo di realizzarlo ok montare che sia cosa e questo è lo script primo script le basi del script abbiamo un trigger che non si vede è un'area in cui quando entriamo fa sparire un oggetto ho messo quei triangolini rossi per vedere dove inizia il trigger da una parte dall'altra vedete che finché non entra un trigger non sparisce il nostro il nostro diciamo tra virgolette una porta ok come funziona adesso questa cosa qua andiamo pure in modalità edit mode e quando andiamo in modalità edit mode vediamo distintamente tutti gli oggetti che sono presenti poi lo rifaremo completamente quindi non preoccupatevi quindi abbiamo una... aspettate che ok allora qui vedete che mi muovo per avvicinarmi quindi eventualmente possiamo mettere un po' più piccolo ok quindi cosa succede abbiamo una porta questa porta qua avevo fatto anche un altro strumento lì ne faremo un altro qua o da qualche altra parte a questa porta praticamente abbiamo agganciato un trigger e questo trigger praticamente punta verso il centro del trigger quindi apparentemente la porta ma in realtà è il trigger i due piramidine rosse che rappresentano dove inizia il trigger che questa zona verde e poi uno script vedete il script che è questo quindi lo script e la porta è questo qua e questo è quello che andremo a fare allora prima di tutto vediamo un po come funziona allora lo script è messo dentro la porta quindi vedete che dentro la porta abbiamo attached script non c'è niente è il trigger in realtà che che noi ci interessa quindi questo è il trigger tra l'altro facciamo così per ampliarlo per renderlo meglio allora il trigger questo qui possiamo chiudere perché la porta non c'è niente abbiamo il trigger il trigger del verde praticamente attaccato alla allo script porta io ho messo metto script in cima così per capirci qualcosa ok quindi è attaccato lo script porta e lo script porta si porta dietro con sé diciamo un una variabile che si chiama door object che sarebbe l'oggetto che noi dobbiamo andare a prendere e metterci dentro in modo tale che che lo trigger capisca che deve lavorare con la porta e poi abbiamo lo script lo script praticamente lo script praticamente adesso vedete che viene tenuto andando sulle tre punti quindi se io lo chiudo per dire questo script e poi voglio vederlo vederlo vado qua ed eccolo di nuovo lì ok allora lo script dice quando il mondo parte se qualcuno è entrato nello script se un player è entrato nello script allora metto la collegability della porta del door object a false la visibilità del door object a false e quando invece il trigger è uscito quando il giocatore esce dal trigger facciamo lo stessa cosa ma a rovescio quindi mettiamo praticamente rimettiamo visibile la porta quindi quando io sono fuori da questo trigger la porta è tutto tutto true cioè quindi posso si vede ed è collidabile quindi non è attraversabile quando entro nel trigger invece posso sparisce la porta e sparisce la sua collidabilità ok allora proviamo a fare qua per dire una cosa di quel tipo lì quindi come facciamo prendiamo il menu con il destro del cursore quindi il menu vediamo che c'è un cubo abbiamo questo cubo questo cubo praticamente lo possiamo vedete che è appoggiato sul piano per appoggiarlo bene lo mettiamo il nostro nostra cosa quindi togliamo la selezione ok prendiamo il cubo e lo mettiamo sul piano però in modalità e facciamola assomigliare alla porta quindi facciamola un pochino più piccola e questa diventerà la nostra porta ora la porta chiameremo la porta del video quindi facciamo i puntini dobbiamo selezionarlo quindi dobbiamo selezionarlo quindi diventare blu puntini afferriamo vedete che è importante capire come prendere gli oggetti quindi esercitatevi bene e gli diamo qui il nome di questa porta ok il nome di questa porta lo mettiamo innanzitutto ci prendiamo la tastiera la mettiamo cambia vedete che la tastiera cambia a seconda di quindi può diventare anche un tastierino numerico che è più semplice a volte e non la chiamiamo anziché cube cancelliamo e la chiamiamo porta facciamo porta video porta 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 video ok porta video quindi la correggiamo dobbiamo va beh porta video teniamola così per il momento ok ora la porta video a questo punto dobbiamo mettere il trigger e quindi il trigger dobbiamo andare sempre nel nostro build nei gismos e nei gismos andiamo a prendere il trigger che è la prima cosa, quindi prendiamo un trigger che sarebbe questa cosa qua ok ora dobbiamo deselezionare in modo da vederlo bene la mettiamo sulla porta magari un pochino più in basso anzi forse possiamo fare la porta un pochino più grande è un pochino più alta più che altro quindi andiamo a fare così, in modo tale da poterla selezionare bene dopo prendiamo questo questo oggetto qua andiamolo così e poi facciamo allarghiamolo di qua e allarghiamolo di là in modo tale che sia abbastanza carino poi da attraversare allora abbiamo detto dobbiamo sapere dove finisce, quindi cosa facciamo prendiamo la shape prendiamo il nostro cono lo mettiamo qua per dire guarda che il cono apre lì e poi questo dobbiamo duplicarlo quindi selezioniamo e duplichiamo quindi abbiamo già duplicato ci ha fatto diventare un altro asset quindi lo cancelliamo ecco l'avevo già duplicato quindi mettiamo dove inizia e dove finisce ok quindi inizia qua e finisce lì ok quindi diventa chiaro come fare per far sperire la porta a questo punto nel trigger dobbiamo quindi siamo nel trigger infatti che mi inserisco qua vado nel trigger seleziono e avendo selezionato prendo le caratteristiche del del trigger e nel trigger dobbiamo metterci uno script lo script per metterlo dobbiamo avere uno script chiamiamo che prendiamo sempre nei gismos andiamo negli script quindi ci prendiamo il suo script lo mettiamo sopra per un momento questo script già sei tonato vedete che c'è questa bella cosa lo chiamiamo non script 1 perché non si capisce niente quindi chiamiamolo prendiamo questa tastiera ok e lo chiamiamo sempre script va bene s-c-r-i-p-t però che facciamo script v-d-o ok script video questa volta l'abbiamo scritto bene facciamo enter quindi a questo punto come diventa questo quindi vedete che posso posso anche ridurlo sempre provendo i trigger in modo tale che sia un pochino più più maneggevole e diciamo che in questo script mettiamoci innanzitutto una porta quindi andiamo sulle variable quello di cancelletto e facciamo una nuova variabile e questa nuova variabile la facciamo di tipo oggetto e gli mettiamo il nome della variabile abbiamo questo ecco ci portiamo la tastiera quindi facciamo var perché è una variabile var la jdk var non va tanto bene ecco questo qui è un pochino var porta var porta è stato attaccato va bene confermato ok abbiamo la variabile della porta quindi cosa facciamo qui dobbiamo metterci un evento che dica quando non quando entra un oggetto ma quando entra un giocatore quando un trigger is entered by player quindi clicchiamo qua vedete che compare questo oggettino lo mettiamo qua e poi mettiamo anche il contrario quando event trigger is exited by is exited by player e lo mettiamo qua ok poi gli eventi sono eventi di visibilità quindi sono questi direi action quindi set object visibility quindi prendiamo la visibilità la mettiamo qua e prendiamo la collidabilità che è subito sotto e la mettiamo qua ok quindi diciamo che l'oggettino che sarebbe la var porta diventa false e false e quindi andiamo a metterci praticamente la variabile porta quindi facciamo clic ok poi andiamo qua ok var porta e poi no non funziona quindi deviamo riprenderlo e mettiamo var porta poi a questo punto queste cose devono essere fatte anche quando quando esco dalla zona però al contrario quindi diventano true e true anziché false e false per farlo bisogna andare selezionare andare qua selezionare ecco ecco vedete che c'è il più quello di fianco quindi facendo più allora più ok no vedete che c'è il più segnato quindi facciamo più selezionato visibilità lo mettiamo sotto no vedete che qui c'è tutto il casino ci ho perso diverse ore li mettiamo a posto quindi clicchiamo set object colladability facciamo tasto destro vedete che l'ha duplicato quindi possiamo prenderlo la duplicazione e mettergli true sempre var porta andiamo a prendere la visibilità quindi visibilità questa clicchiamo clicchiamo quindi c'è sempre un pochino di problema a capire sta cosa quindi facciamo tasto destro ok la duplicato e adesso la mettiamo sotto ok e mettiamo true anche questo ok quindi avendo fatto queste due operazioni possiamo eventualmente provare se funziona quindi vediamo se abbiamo fatto tutto a posto quindi andiamo sul trigger che è il nostro oggetto originale il trigger gli attacciamo lo script noi che l'abbiamo fatto ancora quindi per attacciare lo script dobbiamo script video questo qui c'è la var porta che è vuota e dobbiamo metterci praticamente il la porta no? quindi cosa facciamo andiamo sul andiamo in manina andiamo dentro la porta qui abbiamo selezionato lo script video quindi lo deselezioniamo andiamo dentro la porta la selezioniamo e prendiamo ok lo script video quello lì ok vedete che la pora video abbiamo la nostra poretta video questa poretta video prendiamo il nome che sarebbe quello e dobbiamo andarlo a mettere nello script lo script ricordiamo che è questo ah no non era qua lo script dobbiamo metterlo nel trigger che era questo il trigger vedete che la var porta cioè la porta l'oggetto su cui entriamo è vuoto quindi cosa facciamo selezioniamo la nostra porta prendiamo questo la pora video e quando si illumina ok lasciamo pora video ok a questo punto la var porta è pora video quindi in teoria deve funzionare quindi a questo punto tutto questo impianto qua non lo si vede in realtà non è la realtà quindi io posso comunque chiuderlo chiuderlo e poi chiudere anche il gismos che abbiamo qua il gismos sappiamo che è il menu quindi possiamo toglierlo così abbiamo ancora script video giusto per se vogliamo lavorarci andiamo in modalità prova quindi torniamo qua vedete che qui gli abbiamo detto che quando entriamo in all'interno del trigger ecco sparisce la porta e quando poi vado fuori dal trigger vedete che ritorna la porta quindi la porta praticamente c'è e la porta scompare quando entro nel trigger e questo è tutto diciamo per il 101 di scripting come avete visto c'è ancora qualcosina di scomodo però rispetto ad altri sistemi di scripting questo qui mi sembra particolarmente interessante e tra le altre cose assomiglia molto anche come pensa immagina lavora Unity quindi non è tempo buttato via questo anche se non stiamo lavorando in Unity ok va bene questo è più o meno tutto andiamo nella nostra camera ecco